Marcello Caforio, storico personaggio della cultura, dell'arte e del design. Giorno 29, grande evento qui a Latiano, attacchi d'epoca, dove sarà invasa dai traini che vengono da tutto il sud Italia, compreso anche la Sicilia. Come ti è venuta questa idea? L'idea veramente non è venuta a me, ma è partita sicuramente dall'amministrazione comunale, la quale insieme a Mimmo Muscio hanno voluto portare a Latiano un evento sicuramente unico e interessante. da un punto di vista sociale. Mimmo Muscio, amante dei cavalli, questo lo sappiamo nella nostra Latiano, e dunque grazie a lui ha spinto l'idea di portare a Latiano questo evento. L'abbiamo voluto chiamare primo festival attacchi d'epoca, questa cosa se ne è parlato un po' nell'entourage del comune, il quale tramite Mauro Vitale, vice sindaco, e tutti coloro che potevano collaborare, la Proloco, il Gal, la provincia, si è voluto dare vita a questo evento che sicuramente è nuovo per Latiano. Ma al di là di questo io volevo metterci lo zampino da un punto di vista organizzativo, in quanto ho voluto legare anche la bellezza. Ci saranno delle ragazze che saranno in costume d'epoca, che saranno su alcune delle carrozze più emblematiche. Dunque sarà un evento per le famiglie, sarà un evento dove ospiteremo da diversi luoghi d'Italia e del sud Italia, ospiteremo questi amanti dei cavalli, ma soprattutto di questi mezzi di locomozione che una volta rappresentavano le nostre Ferrari. Questa invasione sarà domenica 29 aprile, alle ore 9 saranno convocati tutti i carrozze e cavalli qui nello spazio adiacente ai mulini a vento, percorreremo circa 3,5 km, partiremo dalla stazione facendo la circovalazione, arrivando su via Mesagne, percorrendo tutta via Mesagne. In piazza Bartololongo ci saranno delle performance di alcuni esemplari bellissimi di cavalli, ci sarà una danza che addirittura effettueranno per strada e dunque ritorneranno da via Francavilla, attraverseranno via Amatir Luther King e arriveranno di nuovo qui ai mulini a vento, dove li ospiteremo per un pranzo conviviale. Cosa ancora più interessante, il sabato sera alle ore 19 ci sarà un convegno dal titolo a cavallo per un turismo sostenibile. Il sindaco ha voluto a tutti i costi che questo evento fosse anche coadiuvato da questo momento, dove ci saranno interessanti ospiti che affronteranno la possibilità di avere un turismo sostenibile attraverso proprio il cavallo, le carrozze, per cui potremo far viaggiare i nostri turisti nelle nostre campagne, nel nostro polo museale, nelle nostre chiese, attraverso proprio queste carrozze. Grazie a tutti.